cari amiche e cari amici come abbiamo visto nel video precedente san tommaso tommaso d'albino parla di due tipi di conoscenza una conoscenza che deriva dal ragionamento dalla razionalità l'indagine scientifica e un'altra conoscenza invece che deriva dall'unione con dio quindi una conoscenza che deriva dalla compassione dal rapporto di amore per dio e nel capolavoro di san tommaso della summa teologica ma anche in altri suoi scritti e tommaso dà proprio un notevole contributo anche alla conoscenza filosofica anche dunque la conoscenza che si ottiene attraverso l'indagine razionale l'indagine scientifica poi quando muore tommaso la sua scuola i teologi scolastici che vennero dopo di lui cercarono di proseguire nella stessa direzione del maestro cercando di mettere la stessa devozione per il tipo di ed impegno il maestro era stato un esempio da questo punto di vista invece ai teologi legati più all'aspetto speculativo fu lasciato continuare l'aspetto filosofico le riflessioni filosofiche legate alla teologia alcuni teologi invece sempre della scuola di tommaso svilupparono più l'aspetto mistico quindi esplorarono più in profondità l'aspetto legato all'unione mistica e alla alla amore che viene infuso da dio nel nei cuori dei dei voti e queste riflessioni queste riflessioni oggi viene dato il nome di teologia mistica come abbiamo visto la sapienza che deriva dall'amore e non è una conquista che fa l'uomo è un dono dello spirito santo perché dio è colui che ci amo per primo e questo si trova scritto nel vangelo proprio no che noi amiamo dio perché dio ci ha amati per primo e tommaso riprende questo concetto quando ci parla di amore infuso perché è dio che riversa nel cuore del devoto il suo spirito santo e si fa in parte conoscere perché non conosceremo mai totalmente dio attraverso questa sapienza infusa una sapienza che non si percepisce con i sensi non è circoscritta a idee chiari dal punto di vista razionale non è una conoscenza intellettuale concettuale né una conoscenza legata a immagini e rappresentazione ma è una conoscenza legata al concetto di nube di non conoscenza e ritorniamo al mondo del paradosso solitamente questo amore questa forma di conoscenza infusa nasce dalla preghiera e ci sono molti modi di pregare abbiamo visto che c'è la preghiera discorsiva si pregava anche e si prega ancora oggi iniziando a riflettere su una pagina del vangelo sulle parole di una pagina del vangelo o immaginando una situazione come ad esempio negli esercesi spirituali di sant'ignazio no immaginando di calarsi proprio dal punto di vista immaginativo in una situazione del vangelo però se si è chiamati alla preghiera di contemplazione arriva un momento in cui proprio grazie all'opera dello spirito santo e quindi all'apertura del dell'orante del fedele che si apre si mette a disposizione totale di dio e crea le condizioni per la percezione dello spirito santo e allora ecco l'infusione dello spirito santo che ferma il pensiero arriva da quel punto si diventa incapace di pensare nel modo ordinario e in ogni caso quando c'è la forte presenza dello spirito santo e inizia questa forma conoscitiva legata all'intuizione si ha molta difficoltà anche a cercare di pensare razionalmente perché si vede questo come un ostacolo quando ci sono questi segni è giunto il momento di abbandonare la preghiera discorsiva e abbracciare proprio il silenzio la quiete della contemplazione ed ecco che si penetra in questa nube di non conoscenza che in realtà è il più alto tipo di conoscenza cioè la conoscenza la nube della non conoscenza la conoscenza intuitiva che non avviene attraverso discorsi e immagini e qui inizia il primo stadio dell'ascesa mistica e piano piano si penetra sempre più nel profondo o si tende sempre più in alto come esprimetelo come come volete meglio perché non è questione di parole qui entriamo nell'inesprimibile in questo momento la minuscola scintilla che era diventata un po alla volta attraverso la devozione una fiammella d'amore diventa quel fuoco ardente quel fuoco divorante di cui poi ci parleranno i mistici di tutta la tradizione abbiamo visto sia occidentale che orientale ma in particolare i mistici spagnoli del del sedicesimo secolo e allora la teologia mistica diviene una disciplina autonoma nel 300 nel quattordicesimo secolo ma fu proprio nel sedicesimo secolo grazie a santa teresa d'avila è chiamata anche santa teresa di gesù e grazie anche al suo confratello che era san giovanni della croce dunque contemporaneo di teresa d'avila siamo ripeto nel sedicesimo secolo in nella particolare nella seconda metà del cinquecento ecco questi due grandi riferimenti anche del nostra esperienze del nostro sangue santa teresa e san giovanni della croce ebbero un'esperienza incredibile di unitiva e di di un'esperienza mistica uno due grandi maestri e lasciarono la realtà ricchissima per quanto riguarda la missione che ha nutrito veramente moltissime generazioni e non solo del cinquecento del sedicesimo secolo ma ancora oggi oggi gli ordini carmelitani ma non solo gli ordini carmelitani anche il decimo d'oro al nostro canale si abbevera da questa conoscenza di questi due dottori della chiesa che sono santa teresa e san giovanni della croce perché poi ricordiamoci che tutti e due sono stati mistici ma anche nomi nominati e riconosciuti dalla chiesa cattolica come dottori della chiesa santa teresa santa teresa fantastica è una mistica sicuramente ma anche teologa e sicuramente non fu una teologa scolastica sebbene avesse studiato anche letto un po di teologia scolastica e poi aveva anche i suoi direttori spirituali che erano dei teologi scolastici però tornando al fatto strettamente all'interrogativo fu una teologa santa teresa può considerarsi teologa oltre che mistica e quindi se noi ecco per teologo mistico intendiamo una persona che riflette teologicamente sull'esperienza mistica allora possiamo dire di sì santa teresa fu teologa e mistica una vera e propria teologa mistica perché mi do costantemente sull'esperienza mistica sia propria che degli altri e lasciò delle indicazioni scritte questo è il punto e sia san giovanni della croce che santa teresa ci lasciano dei veri e propri manuali di meditazione frutto innanzitutto della conoscenza infusa quindi del loro aspetto unitivo della loro esperienza mistica unitiva con dio ma poi anche del materiale che raccoglievano parlando con altri con fratelli che facevano con l'esperienza e santa teresa stessa fa una una netta decisione tra esperienza e teoria perché dice proprio una cosa avere l'esperienza mistica diretta e quindi avere l'esperienza dell'unione con dio un'altra cosa invece è leggere e studiare di questo tipo di esperienza e poi aggiungeva e un'altra cosa ancora poi riuscire a spiegarla che impresa ardua comunque teresa può a tutti gli effetti essere considerato una teologa mistica proprio perché comprende il senso profondo dell'esperienza unitiva direttamente a questa scienza infusa e riesce a spiegarla con questi scritti che veramente sono di un vigore straordinario dunque teologa messica che vuol dire una teologa della compassione una teologa dell'amore perché lei scrive riguardo all'amore di dio e all'amore per il prossimo e non è in vita nella preghiera a non pensare lei dice non bisogna pensare molto nella perché era bisogna amare molto una cosa è pensare una cosa è amare e c'è questo questo capolavoro della mistica che il castello interiore dove descrive proprio le varie fasi tutti gli stadi di questo amore che diventa sempre più profondo e che ma con si concludono col matrimonio spirituale quindi con l'unione mistica il matrimonio tra la sposa e lo sposo e ovviamente qui entriamo nella simbologia dell'unione del maschile col femminile dell'unione del mistico con dio e in questo contesto teresa scrive delle pagine anche molto piacevoli e molto accurate del riguardo al non dualismo cristiano che cos'è il non dualismo cristiano è esattamente quello quello che troviamo nell'advaita vedanta un amore unitivo un amore dove nel silenzio si avverte questa poterosa presenza di dio e ci si dimentica di se stessi ci si dimentica del proprio io quindi tutto quello che è il pensiero compulsivo la compulsione mentale le immagini legate alle nostre esperienze ordinarie vengono messe da parte e poi totalmente dimenticate per dare spazio per la penetrazione nel presente che non è altro che dio e cosa importante poi ricordiamoci che santa teresa è cattolica e cristiana una rilevanza molto importante al concetto di incarnazione e quindi l'insegnamento mistico di teresa si concentra su gesù sul verbo fatto carne e insiste sul fatto che bisogna restare sempre in contatto con l'umanità di gesù e durante i suoi rapimenti mistici lei ha questi queste estasi pazzesche no vedete la la statua del bernini qui a roma in santa maria delle vittorie qualcosa di straordinario no queste estasi che portavano teresa veramente in un altro mondo in altre dimensioni e lino il famoso nada 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 nulla 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 che a gran voce va bene sia a gran voce nel silenzio ripeteva san giovanni della croce che era un amico e collaboratore di santa teresa e esattamente come nulla 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 di san giovanni della croce anche teresa sperimenta questo vuoto questa nube della non conoscenza e l'aridità della notte oscura però attenzione teresa ci dice che in tutto questo gesù è sempre presente perché gesù è la via ricordiamoci sempre che tutto va contestualizzato e qui siamo nel nel tratta il 500 e il 600 sta per iniziare la dimensione del barocco a roma e poi in europa il vuoto la cosa intende per vuoto teresa dove dove si trova gesù in questo vuoto come si può parlare di presenza di gesù e nello stesso tempo invitare ad alla penetrazione nella nube della non conoscenza dove si accede solo attraverso l'assenza di immagine allora lì capiamo che teresa non pensa a un'immagine di gesù in realtà teresa non pensa a una rappresentazione visiva di gesù e non pensa al fatto che bisogna sempre contemplare visivamente un episodio del vangelo come spesso invitava a fare appunto sant'ignazio teresa andava in estasi teresa penetrava nel silenzio aveva accesso a dimensioni totalmente inaudibili totalmente sconosciute penetrava nel mistero e lì aveva questa percezione della presenza dunque di gesù come presenza gesù che si manifestava come presenza ai sensi interiori in un livello di coscienza più profondo e lì in quella presenza che il corpo glorificato di gesù e in quella presenza che si supera la dimensione spazio temporale e si penetra nell'eternità e quell'eternità non è altro che il corpo glorificato di gesù e ci fu un altro teologo e mistico Teilhard de Chardin che poi chiamerà questa esperienza il cristo cosmico il cristo dell'universo è bellissima questa definizione il cristo cosmico il cristo dell'universo e proprio ad indicare che di questo questo gesù che è il cristo cosmico che è il cristo dell'universo e non possiamo mai avere un immagine adeguata allora ecco che il verbo incarnato che era una caratteristica ed è una caratteristica essenziale dell'insegnamento di teresa non ha in realtà a che vedere con l'immagine e il ragionamento ma a che vedere con questa dimensione di cristo cosmico di cui ci parla successivamente poi di Teilhard de Chardin e teresa fu una maestra a tutti gli effetti è una maestra spirituale straordinaria il suo insegnamento è in linea con la chiesa cattolica è fondato sull'amore per il divino e per il prossimo e anzi l'amore per il prossimo è importantissimo in questo anche il nostro canale in linea con Teresa quante volte ho detto ai miei allievi guardate non bisogna isolarsi bisogna condividere col sanga e poi la vera crescita avviene in quanto riusciamo essere armonici con gli altri con le persone ordinarie mai sentirsi superiore sempre avere un atteggiamento compassionevole il fatto di essere coscienti che si sa di più che si penetrano in realtà che a loro sono inaccessibili e questo non vuol dire però sentirsi superiori ma vuol dire sviluppare amore per il prossimo fare come la persona che era riuscita da no ad uscire dalla caverna di platone e che poi torna indietro dai suoi fratelli che stanno nell'ombra questo è l'atteggiamento giusto non c'è mai isolamento non c'è mai a ho l'estasi allora me la godo per conto mio che se ne importa per gli altri non c'è mai questo atteggiamento questo sarebbe un atteggiamento estremamente egoico e devastante per un reale cammino spirituale no allora Teresa stessa invita a verificare il proprio progresso nella preghiera e proprio dice che che è una una norma suprema proprio di discernimento il fatto di riuscire a donarsi agli altri a fare qualcosa per gli altri che se qualcuno vuole intraprendere questa questa via deve sempre avere davanti a sé presente la compassione e stessa cosa il caro amico e collaboratore di teresa e giovanni della croce anche lui un un dottore della chiesa quindi un teologo di altissima levatura anche lui radicato nell'insegnamento di tommaso da quino e grande conoscitore poi della tradizione mistica del tomismo del della della mistica del quattordicesimo secolo e anche la esperienza mistica e gli scritti di san giovanni della croce che sono dei veri e propri manuali di mistica e di meditazione sottolineano sempre l'aspetto della compassione quindi e noi possiamo tranquillamente chiamare la teologia di giovanni della croce è proprio una teologia dell'amore perché lui definì la teologia mistica proprio una sua definizione disse che che quella quella la teologia mistica non è altro che una sapienza segreta che viene dalla compassione che viene dall'amore e dunque quello che conta anche per giovanni della croce esattamente come per teresa non è la conoscenza astratta e speculativa del luminare universitario del dotto accademico ma l'esperienza diretta la pratica la pratica la pratica che ti porta a sperimentare direttamente che ti fa penetrare nel mistero e dove si sente nel in ogni fibra in ogni cellula la presenza del divino e questa sapienza palpitante che poi nelle fasi avanzate della meditazione si sperimenta e realmente si può parlare di cuore infiammato d'amore perché questo tipo di sapienza trasforma la mente e potremmo parlare simbolicamente veramente di trasfigurazione del corpo perché si prova sia una gioia profondissima e ma a momenti anche una sofferenza interna e san giovanni della croce e identifica il percorso da un elemento rilevante per lui della teologia mistica proprio con l'immagine della notte oscura questa notte oscura che ci dice giovanni che è sempre un influsso di dio nell'anima e in quella notte oscura dio purifica l'imperfezione e l'ignoranza abituali la contemplazione infusa quando nell'assenza di immagini ci si abbandona al mistero divino e si permette nella oscurità della compulsione della mente razionale la azione di del divino e giovanni qui descrive proprio la notte oscura come questa presenza tangibile quasi di dio un influsso di dio nell'anima però bisogna rendersi non bisogna fra intendersi quando sente parlare di notte oscura e quando parla di influsso dell'anima legato a questa nostra oscura perché in realtà tutto il processo mistico non è altro che un influsso del divino nell'anima non un flusso che un altro un influsso di dio nell'anima e la stessa teologia mistica è un influsso di dio nell'anima e questo un flusso a volte può provocare delle sofferenze legate alla notte la notte oscura altre volte invece ecco questo rapimento questa estasi l'illuminazione però giovanni ci dice sia nella notte oscura e nell'esperienza del deserto della sofferenza sia nella statica gioia dell'illuminazione in tutte e due questi casi dio istruisce l'anima dio ammestra l'anima verso la perfezione che è una perfezione d'amore e l'anima non deve fare assolutamente nulla che non abbandonarsi a dio e giovanni dice non cercate di capire come avviene questo processo perché non capirete mai come avviene in quanto è dono di dio quello che dovete fare è semplicemente abbandonare lasciare tutte le vostre certezze per abbandonarvi a dio al di là di ogni immagine penetrare nel mistero e allora la teologia mistica è un influsso di dio che ci insegna la perfezione della compassione che ci insegna la perfezione dell'amore e allora accennavo a questi anche elementi poetici che troviamo nei mistici no giovanni parla di fiamma viva d'amore è una bellissima immagine la fiamma viva d'amore e scrive anche una poesia no proprio dove proclama o fiamma viva d'amore che meraviglia e cos'è questa fiamma viva d'amore lo spirito santo lo spirito santo che è presente come fuoco in ciascuno di noi e emana fiamma viva d'amore e emana luce ma l'oscurità dei tutti i diaframmi del nostro ego della nostra imperfezione ci impedisce di percepire ma questa fiamma di amore c'è sempre è lo spirito santo presente in ciascuno di noi e allora superando tutti questi diaframmi che ostacolano questa percezione l'anima può avvertire questo fuoco e attraverso fuoco può essere trasformata e purificata ecco la fiamma viva d'amore e quando san giovanni ci parla poi di fiamma viva quando scrisse questa poesia stava proprio facendo lui l'esperienza della fiamma viva d'amore di questa istruzione di dio di questo infusione di dio che non è sempre suave attenzione inizialmente ci dice giovanni che era una minuscola scintilla poi un movimento d'amore nel più profondo del suo essere poi un fuoco divorante che lo assalì e provocò anche dolori e sofferenze questo fuoco e dolori e sofferenze intollerabili pure ci dice perché si prova anche molto dolore quando si entra in una notte oscura e dopprimente quindi ecco la necessità del maestro la necessità e qui pure no san giovanni sottolineava l'importanza del padre spirituale del maestro santa teresa davila sottolineava è la tradizione che sottolinea l'importanza del maestro no e allora si penetrerà nella compassione nell'essenza della tradizione e giovanni della croce si unisce a cristo che accende questa fiamma viva d'amore nel suo più profondo dell'anima e allora si è insieme umani e divini e l'amore di gesù si fonde con l'amore del devoto in questo caso si fonde con l'amore di giovanni è un amore che non ha oggetto non si posa su nulla si irradia ovunque semplicemente fino ad abbracciare il tutto fino a abbracciare ogni persona ogni cosa ogni oggetto tutto queste sono proprio le caratteristiche della fiamma viva d'amore di cui ci parla il grande giovanni e da quest'amore a origine la sapienza ecco la suprema illuminazione il risveglio che raggiungerà il suo culmine quando questo misero corpo di carne e ossa morirà che allora l'anima entrerà nella vita eterna godendo di questa luce di questa pace e fondendosi con con dio di questa pace che proviene da dio e la conoscenza ottenuta per mezzo di questa fiamma viva dell'amore è la vera teologia mistica e giovanni ci dice che è talmente meravigliosa questa fiamma che quando se ne ha esperienza si comprende che tutta la conoscenza del mondo tutta la conoscenza del mondo nessuna cosa esclusa è semplicemente ignoranza anche questo è un altro spunto di riflessione enorme cari amici e san giovanni della croce ci dice appunto che non è esprimibile a parole e tutto quello che viene espresso con le parole in realtà distorce e tutta la conoscenza umana tutto ciò per cui sono attratti gli uomini non ha senso quando si sperimenta la reale conoscenza e la reale sapienza derivante da questa illuminazione ineffabile dell'anima che produce amore che produce compassione un'esperienza sconvolgente ma una esperienza che avverrà attraverso la meditazione e allora meditare tutti i giorni praticare per penetrare in questa conoscenza segreta in questa conoscenza mistica al di là della mente e questo tipo di conoscenza che ci porta la sapienza infusa la conoscenza infusa e questo tipo di conoscenza che ci inonda tutti i giorni del amore del divino e è paradossale questa sapienza questa sapienza che viene dall'amore che viene da dio tant'è vero che san paolo dice se vuoi essere saggio devi diventare un pazzo un amante folle e sempre san paolo ci dice perché quello che è stoltezza di dio è più sapiente degli uomini e c'è ciò che è debolezza di dio è più forte degli uomini diventa un folle un pazzo di dio e penetra in questa follia d'amore dove la tua anima si unisce e si fonde con il divino un caro abbraccio a tutti marco cosmo